Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleria di sinistra affittibrianza e ti porto in visita in un appartamento bilocale di circa 70 metri quadri completo di giardino e cantina. Ci troviamo ad Esio, in zona semicentrale. Ingresso su soggiorno, luminoso e con ampia finestra. Dal corridoio abbiamo accesso al disimpegno che conduce al bagno con doccia, postazione lavatrice e finestra con inferiata. Ampia camera da letto matrimoniale con parquet. Comodo ripostiglio. Cucina abitabile completo di arredamento incluso. Dalla cucina abbiamo accesso al giardino di pertinenza. Per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito www.desio.soloaffitti.it Per la cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibrianza.com Solo affitti, affittare con sicurezza.